Parliamo di fondi delle PNRR. Tanti ne stanno parlando, tante le idee che stanno circolando. Per il Comune di Cossato però l'imperativo è consorziarsi con altri comuni per ottenere dei fondi. Lei ha accennato al fatto di una grande pista ciclabile, un'idea veramente grandiosa. Sì, diciamo i fondi PNRR privilegiano, sono distribuiti principalmente nelle città con una popolazione importante. Le città e i paesi al di sotto dei 15 mila abitanti devono consorziarci. Per cui sono due i progetti su cui noi in questo momento stiamo lavorando. Il primo, insieme a altri comuni, è la creazione di una pista ciclabile intorno alla baraggia di Candelo, quella zona militare, tanto per intenderci. Un po' il capofila di questo progetto è il Comune di Villanova, che è il punto, diciamo, ideale d'ingresso di questa opera, che speriamo di realizzare insieme a tanti altri comuni di quell'area. E poi è allo studio anche un progetto congiunto con la vicina Quaregna, per la riqualificazione dell'asso e viario, appunto, che ha Cossato e via Mazzini, ma che prosegue poi in direzione Biella verso Quaregna. Stiamo discutendo, dobbiamo trovare dei punti in comune che ci sono e poi c'è tutto lo sforzo progettuale a cui comunque stiamo lavorando. Senta, possiamo dire che il Comune di Cossato, non solo a fronte dei rincari del carburante, sta ragionando su una maggiore accessibilità sia per i pedoni che per i cicloturisti. Ma l'idea fondamentale di questa amministrazione, soprattutto per quanto riguarda l'area centrale, è di spostare l'equilibrio veicolo-pedone a favore del pedone, perché pensiamo che aumentare la circolazione pedonale possa essere anche di traino e di sviluppo per i nostri negozi e quindi aumentare anche, diciamo, l'appettibilità dal punto di vista commerciale. L'idea, esempio del progetto PNR che stiamo creando in questo momento, perché siamo ancora nella fase embrionale, è quello appunto di restringere via Mazzini, allargando i marciapiedi. Questo permette di rallentare il traffico, quindi è un aspetto positivo per quanto riguarda la sicurezza, ma allargando i marciapiedi e abbellendo la via sicuramente rendiamo la via più appetibile, più frequentata e quindi speriamo che via Mazzini torni a essere la via Mazzini di qualche anno fa.